Questa è la lotta del bene. Il male è che ostacola la scienza in qualunque modo. Non le interessa la conferenza, signorina? Ti presento Nicole. Lei è un teologo e un filosofo. Dottor Anibaldi, psicologo specializzato nella terapia di coppia. Ora siete liberi di raccontarmi tutto ciò che volete. Parliamo di ciò in cui non sono come tu mi vuoi. Nicole si riferisce alle manette. Dove si trovava al momento dell'omicidio? Carlin, cosa vuoi fare così? Grazie a tutti